Le gare, io mi faccio pena non essere un carabiniere, ci siete? Vieni per avanti Ale, hai fatto tutto questo? Vai! 5, 4, aspetta scusa eh, scusa. L'Azza sta per partire, la prima batteria della semifinale. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 5, 4, 3, 2, vai! 5, 4, 3, vai! 5, 4, vai! 5, 4, vai! 5, 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 vai! 6, vai! 5, vai! 6, vai! 5, vai! 5, vai! 5, vai! 5, vai! Grazie